Ciao ragazzi, mi sono arrivate due poste Questa è da Manent98 Come puoi vedere è arrivata E questa è da MrMingo2000 E' arrivata anche a tu Apriamo prima quella di Manent98 Ok, allora Un bigliettino Con scritto Apri XD Ciao Gianlu, ecco le carte Manent98XD Ok, come puoi vedere sono arrivate Ok, qua troviamo le carte E qua troviamo un biglietto con scritto Ve lo decifro al computer Ciao Gianluca, spero che stavolta Ti siano arrivate le carte perché se no Mi cazzo, ecco qui uno shooting ultimate Un numero 36 ultra Una pod super Spedisce il più presto, raccomandata Ciao Manent98 Ok, vediamo se ha rispettato le condizioni Delle carte, mi ha detto grandemente Ok, questo è il nebbia scura Ok Le condizioni sono mint, si Lo posso dare Poi la pod che non do Perché la gioco Ok, mint e lo shooting, perfetto Lo shooting ultimate Non penso di darlo Ok, perfetto La posta di Manent è arrivata Come puoi vedere Poi Abbiamo ancora quella di Mr. Mingo Che è la più attesa che sto aspettando Ieri la più attesa era Ok Ok, si è aperta Si è aperta Ok Che bel bot di carte Qui non c'è scritto niente Perfetto Quindi posso buttarlo Le buste le tengo Ovviamente per gli indirizzi Allora, le carte le metto qua Ok, perfetto Allora, vediamo Questi sono i pezzi di Exodia Vediamo Ok, braccio destro Braccio sinistro Gamba destra Gamba sinistra La faccia Ecco E la faccia Perfetto Ok, non mi ha detto che condizioni erano Ma vabbè, tanto da collezione così Ok, Exodia è completo Perfetto Anche se non è mint Ah, la gamba è ultra E l'altra gamba è rara E due bracci sono rari Exodia è ultra Ok, poi Questa c'era la faccia Vabbè, la faccia è messa malissimo Ma ho detto non guardo le condizioni Delle altre carte però sì Allora Dark and Dragon Secret da Legendary Collection Così ne ho un 2x E posso scambiare questo secret Perché quello ultra da jump Ah, perfetto Il gattino molla ultra Ah, bellissimo Ne sto aspettando uno ultimità anche da Yu-Gi-Oh Massacre Poi Ah, perfettissimamente perfetto Con la bustina personalizzata Troviamo il Tango Ultra Non do Allora, l'exodia non lo do Non lo do Il gattino non lo do perché mi sto montando una molla e ce lo gioco Il Dark and Dragon lo posso dare questo secret Il Tango non lo do 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 Bellissimo Ok, ringrazio l'utente e spedisco domani per tutte e due Ciao